La Toscana che vogliamo è quella che tiene conto di un'equità che deve comunque essere il nostro faro di tutta l'azione politica, dove tutti i cittadini possano cogliere l'opportunità, cittadini, imprese, istituzioni, enti locali. Si chiama infatti la Toscana che vogliamo, il nuovo percorso partecipativo promosso dalla Gruppo Consiliare del Partito Democratico. Un'iniziativa in vista dell'approvazione del nuovo programma regionale di sviluppo 2022 ad ospitare l'iniziativa La Casa dell'Energia. È lo strumento di programmazione più importante che racchiude tutte le scelte prioritarie, strategiche, l'allocazione delle risorse che fa fare la regione da qui a fine legislatura. Vogliamo in questo modo creare le condizioni per una Toscana che rafforzi la sua sanità territoriale, anche utilizzando le risorse PNRR. Vogliamo una Toscana che migliori la sua dotazione infrastrutturale, una Toscana che sia in grado di supportare attraverso il miglioramento tecnologico e la digitalizzazione anche tutta la rete a disposizione delle imprese e dei cittadini. Insomma, tutte scelte che poi proseguiranno con i piani di settore. Presenti sindaci, rappresentanti delle associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, associazioni del terzo settore e sportive del territorio aretino. Confronto serio con la società toscana su un documento che è un documento amministrativo, programmatico, molto robusto, molto vasto, ma che ha bisogno di un'anima e di un'impostazione politica.